Io mi trovo in Val Brembana oggi 25 aprile 2017 una giornata di festa in questo paese diciamo il borgo più bello d'Italia è uno dei dieci borghi giudicati migliori perché è rimasto all'epoca di allora infatti non passa nessuna automobile si arriva a questo borgo solo attraverso una pista pedonale cioè stavo dicendo pista ciclabile neanche quella c'è solo la mulattiera che permette di arrivare in questo borgo della Val Brembana provincia di Bergamo questa è la via principale guardate neanche una persona il cielo nuvoloso incerto ora sto guardando la casa del pittore ecco in questa casa visse un pittore nel secolo scorso si vede i balconi le strutture dei tetti gli archi il giardino e vi faccio vedere i miei quadri siamo cornello dei tasso cioè siamo sono perché non c'è nessuno questo è il mio primo quadro secondo quadro di Aldo Maspero terzo quadro quello che mi piace di più terzo quadro di Aldo Maspero che bello questo borgo in mezzo alla valle la casa del pittore la casa del pittore Aldo Maspero la via principale del borgo poi a sinistra si sale verso la chiesa che bel verde c'è in questa zona gente di campagna che non conoscono il senso caotico di una città e non vorrebbero neanche venire ad abitare a Milano preferiscono abitare qui io sempre non ci starei però come weekend mi piacerebbe vi saluto